Buonasera a tutti, grazie per essere qui, grazie per il vostro entusiasmo, per la vostra presenza, grazie, me la vuoi dare? Grazie, sì, mi ricordo, me la vuoi lasciare? Me la vuoi lasciare? Mi ricordo, mi ricordo. Va bene, tu vuoi tante cose, ognuno vuole delle cose, aspetta, scusami, tu vuoi delle cose, non devi scappare all'estero, tu vuoi delle cose, io voglio il diritto di pensarla in maniera diversa, è la democrazia, si può non essere d'accordo, io e te non siamo d'accordo, ci rispettiamo non essendo d'accordo. Grazie per essere stato qui, ciao, lo so, lo so, va bene, hai già le unioni civili, quindi puoi fare quello che puoi, fermi tutti, puoi fare quello che puoi, posso andare avanti? Grazie, grazie mille, grazie, 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 gli facciamo un applauso perché, ragazzi, io rispetto il coraggio delle persone di difendere quello in cui credo, è una vita che ho il coraggio di difendere quello in cui credo, per cui gli voglio fare un applauso e lo voglio ringraziare per essere salito sul palco per rivendicare quello che crede giusto, perché la democrazia è bella per questo.